Un concerto della Chachabanda ha concluso a Monterchi il Tiber Sinfonia Festival. 40 giorni di eventi musicali, generi diversi e sicura presa sul pubblico mai deluso dal programma proposto. Un successo di festival. Noi siamo arrivati alla serata conclusiva del Tiber Sinfonia Festival, una manifestazione che ha coinvolto diversi comuni della Valtiberina e specialmente il comune di Monterchi e il comune di Anghiari che hanno saputo proporre una serie di eventi culturali di tipo musicale in Valtiberina nel mese di luglio e di agosto. Devo dire che il bilancio che possiamo fare di questa manifestazione che per il secondo anno consecutivo ha goduto dell'appoggio, del sostegno economico della regione è sicuramente positivo perché abbiamo avuto la possibilità di ospitare tante persone che sono venute nei nostri paesi non solo per godere della bellezza della nostra natura, della nostra arte, della nostra cultura ma proprio per stare con noi perché la musica ha permesso di unire la gente, di stare insieme, di godere insieme e di momenti di comunione, di serenità e di questi tempi penso che sia una cosa estremamente positiva. Per cui speriamo l'anno prossimo di poter ripetere questa esperienza che ha visto ben dieci concerti a Monterchi di artisti molto validi e di questo ringraziamo il maestro Lorenzo Rossi che è stato come sempre un eccezionale direttore artistico.